Un arresto cardiaco durante una partita di calcetto dopo la scuola. È spesso il drammatico epilogo di tragedie che vedono come protagonista la morte improvvisa. Ogni anno sono mille gli under 35 in Italia ad esserne vittime, mentre nella popolazione adulta i decessi arrivano a 50.000. Ad analizzare questo fenomeno nel libro Il cuore dei giovani è Francesco Fedele, direttore del Dipartimento delle malattie cardiovascolari e rispiratorie dell'Università Sapienza di Roma. È bene che inizino il controllo e la prevenzione fin dalla giovanità, perché ci possono essere delle situazioni invece di malformazione cardiaca che debbono essere intercettate oppure delle alterazioni dell'attività elettrica cardiaca che possono essere messe in evidenza anche con un semplice elettrocardiogramma. Noi come Fondazione Italiana Cuore e Circolazione, e i dati sono riportati nel libro, abbiamo già fatto 10.000 elettrocardiogrammi in tutte le scuole d'Italia e abbiamo visto che ci sono delle alterazioni elettrocardiografiche in circa il 20% dei casi. Ora non vogliamo allarmare nessuno, non è che il 20% dei nostri ragazzi sta male, per fortuna, però è un campanello d'allarme e noi consigliamo ai ragazzi o ai genitori di fare ulteriori accertamenti. Questi accertamenti mostrano che nella maggior parte dei casi, per fortuna, tutto sta a posto, però viene un 1-1,5% di casi in cui effettivamente troviamo qualcosa e l'intercettazione di questi ragazzi naturalmente fa sì che vengano adottati i provvedimenti adeguati. Grazie a tutti. Grazie a tutti.